Benvenuti al Meteo di Telenuova, queste le previsioni del tempo per domani, martedì 13 maggio. La pressione cede anche nelle regioni centrali, il tempo dunque peggiorerà anche qui con l'arrivo di piogge temporali. Acqua al nord, specie dal pomeriggio, il maltempo si sposterà poi al sud, specie sulla Puglia. Tempo stabile e soleggiato soltanto su Sardegna e Sicilia. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo al nord e calando anche al centro, mentre al sud sono previste in aumento con picchi di 30 gradi in Sicilia. Ed eccoci alla Campania, il tempo sarà discreto con il passaggio di aria moderatamente umida, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso, con tendenza all'aumento delle nubi, possibili piogge specie nell'entroterra. La temperatura stazionaria in aumento leggermente soltanto in alcune province, venti deboli di direzione variabile e il mare mosso.